E poi proprio adesso che dovevamo sposarci. Claudio, ma ti ho detto del tipo di ieri sera. Sai quello che mi ha invitato a cena? Aveva sette tipi diversi di tisane. L'ho lasciata io poi. No, di fidare sempre, perché uomo con tisana non scopa, si sa. Mi vuoi ascoltare, per favore? Sì, sì, Claudio, guarda che poi torna, secondo me torna. No, stavolta non torna. E tu ti devi concentrare, perché lei se n'è andata. Io sto morendo, cavolo. Sì, però Claudio, sono sette anni che stai per morire. Cioè, scusa, vorrei parlarti delle mie sette tisane, posso? Vai, vai. Allora, ho scelto Coca e Rum a casa mia. Non devi bere a casa da sola. Ma quello sei tu, infatti, io mica ero sola. Dovina un po' chi è tornato? Are you awake? Sì. Lo stesso messaggio alle due del mattino. Stessa roba. E tu eri awake? Molto awake, certo. Lo so, hanno della frutta di merda in quel negozio egiziano, ma il loro servizio notturno compensa. Non si doveva sposare questo? Ma sì, si è sposato, infatti. Tipo lei ha diciassette anni. Ma gliel'ho detto, mica son gelosa. Vai tranquillo. È lui che, non so, si sente in colpa. Aspetta, lei? Lei? Lei c'è un altro. Lei c'è un altro e tu non me lo vuoi dire? No, no, Claudio, io non sono nulla. L'ho capito, come hai detto, ma io non sono gelosa, l'ho capito subito. Sì, ma io era rispetto a me, scusa. No, no, era rispetto a me, dimmelo. Claudio, ho detto io, perché deve essere rispetto a te, scusami? Guarda, voi due siete uguali in questo, uguali e insopportabili. Voi chi? Ma tu è quell'egocentrica narcisista eppure vagamente stronza della tua ex. Voi due? Stronza? Che cosa sai? E poi, lo vedi che hai detto ex, lo sai che è finita, lo sai che è finita. Sì, l'hai detto tu che questa volta è finita, Claudio. Ma è normale che io lo dica, al gioco delle parti. Io dico, stavolta è finita. E tu mi dici, no, stavolta vedrai che torni. E l'ho detto. Insisti, se non lo capisco, insisti. Calmate, dai, Claudio, calmiamoci, prendiamo un bicchier d'acqua e lavoriamo sulla comprensione adesso. Va bene? Cerchiamo di capire perché questa storia è finita, dai.